Buonasera, ringrazio tutti coloro che hanno accolto il nostro invito, ringrazio anche cordialmente il presidente dell'Accademia dei Fisiocritici, il professor Mancanelli, che stasera non ha potuto essere presente, ma che è così cortese da accordarci l'ospitalità tutte le volte che le tecnologie non sono del tutto compatibili con la vecchia Accademia degli Intronati. Ma non è solo per questo che siamo qui, siamo qui anche perché in effetti tra l'Accademia degli Intronati e l'Accademia dei Fisiocritici si è stretto un forte legame di cooperazione e di collaborazione che ovviamente avrà molti altri appuntamenti nel proseguo del tempo. Il volume, i temi che contiene ovviamente, che stasera è al centro della nostra attenzione, è questo ultimo testo, recente testo diciamo meglio, di Laura Vigni, dedicato a Giuseppe Bargagli e al suo diario di guerra che copre gli anni 1812-1814. A me non spetta presentare coloro che interverranno e che sono collegati con noi a distanza, ci stanno ascoltando, e le ringrazio soltanto a partire dal professor Luigi Marscilli Migliorini che è docente all'Orientale di Napoli, l'abbiamo conosciuto in varie altre occasioni, massimo esperto dell'età napoleonica e non solo, non ha bisogno quindi di citazioni, di bibliografia o di altro. L'abbiamo già ascoltato, una sua conferenza è già pubblicata nel volume che l'Accademia degli Tronati ha edito, dedicato appunto all'età napoleonica e a ciò che avvenne anche dalle nostre parti durante quegli anni drammatici e convulsi. Massimo Zanca, lo saluto, ma anche lui è collegato e si parlerà subito dopo di me. Io, siccome i vari oratori di Presidente Aurora mi ha diffidato da parlarne, no, sono stato diffidato, non so perché, ma questa è la situazione. Il libro lo illustrerà la stessa curatrice e autrice Laura Vigni, di Napoleone e compagni, o diciamo meglio commilitoni, impresi di avventura, compagni di avventura, ne parleranno illustri studiosi. Io non c'ho da parlare di niente, tranne che voglio dire solo una cosa, che siamo molto grati, ecco, ai lavori che continua con energia straordinaria e con grande acume a fare Laura Vigni su questo periodo che lei domina assolutamente dal punto di vista di ogni tipo di fonte e di approccio. Il suo libro sui patrizi a Siena durante il periodo tra la fine Settecento e la restaurazione è un classico, ma ora nella miniera Bargagli, che ha molte diramazioni ed è una miniera che contiene molti testi, ha cominciato a lavorare già da tempo e ne ha tratto fuori pubblicazioni di grande interesse. rivestendo in modo assolutamente semplice, ma di grande esperta, lo voglio tagliare in atto, varie vesti, perché è stata curatrice, eminentemente curatrice, del bellissimo diario di Evelina. Ermellina, sì, ora io pensavo di Evelina Sant'Angelo, il testo è lì, di Ermellina, ed è una curatela perfetta e rende possibile leggere questo testo veramente in modo puntuale, ricco per ricco. Poi, affrontato con estronarrativo, perché a Laura non gli manca anche questo esprit, con questo gusto, in una maniera strana, che è abbastanza stravagante, nel senso buono della parola, le avventure di un giovanotto piuttosto, diciamo, sregolato, anzi però libertino. E questa parola libertino, come si sa, è bella, perché ha molti sensi, si può usare in senso banale, come spesse volte si fa per dire un libertino, è diventata uno scavezza a collo, uno fa cose balorde, però libertino echeggia anche la grande cultura libertina, che fu un filone rivoluzionario, contro i costumi vecchi e decrepiti dell'anziano regime, e forse Antonio aveva dell'uno e dell'altro. È un eroe un po' standaliano, direi, no? Che aveva del rosso e del nero, diciamo, di vai e di là, non va appiattito in una dimensione. Gli uomini ad una dimensione sono del nostro tempo, come ci ha insegnato Marcuse, oppressi e inscatolati dentro le stesse parole, gli stessi slogan. Allora le cose erano più avventurose, più forse anche per certi versi umane. E ora, lì l'ha affrontato appunto il chiave narrativa, come ha detto, non so, lì, ecco, il Floriana in una stupenda, il Colau in una bellissima recensione, quasi alla Rashomon, perché ha presso le fonti, si è incarnata in questi testi e ha fatto parlare i conoscenti, i parenti, a partire dal babbo, scelso, eccessivamente severo e bigotto, in prima persona di Antonio. Per cui è come se uno ricostruisse un personaggio, come fece appunto Rashomon nel suo grande film, da vari punti di vista, pirandellianamente, dunque con un'invenzione narrativa veramente molto briosa, molto vivace. Ora, questa fa un'operazione che è per certi versi a rovescio di quella lì, completamente a rovescio, perché il diario di Giuseppe, di questo rampollo che parte sognando l'avventura Napoleone e poi si trova di fronte ovviamente ai drammi che portava con sé, in un itinerario che non è solo geografico, ma anche psicologico per certi versi, ora si è dedicata appunto a questo testo con un'operazione a rovescio, perché mentre il diario è di una esilità, secondo me, è di una gracilità esemplare, quasi una serie di appunti per molti aspetti, da cui se non ci si scava dentro si riesce in fondo a tirar fuori poco, cioè ci tira fuori chi conosce bene il periodo, diciamo, ma un lettore normale, insomma, normale, un lettore comune, secondo me, perché poi c'aveva un vocabolario, Giuseppe, molto ovvio, insomma, la città è bellissima, Trento, Bologna è bellissima, Isbruck è bellissima, insomma, fa una serie di, non è che poi, non è un diario del viaggiatore, di letteratura o deporica, come si usa a dire, una parola buffa classica, è il diario, un diario strumentale, come allora andava di voda, insomma, in cui uno appuntava i posti dove dormiva e gli incontri che faceva, qualche sprazzo, ovviamente, nonostante tutto c'è, e lo sprazzo, ahimè, gli sprazi sono i momenti drammatici, perché questo viaggio, questa impresa che Giuseppe affrontò con entusiasmo come guardia, appunto, dell'Isa Paciocchi, insomma, in un ruolo, cioè, non di primo piano, non a contatto diretto con gli scontri e i tumulti di quegli anni, però a volte inducia su descrizioni che colpiscono molto, quanto avevano colpito lui, noi, rimasti là isolati, a Dresda, città, drammatica, è sempre stata al centro di grandi drammi, noi, rimasti là isolati, prese tutti il nostro partito, la nostra decisione, partito, ovviamente, in questo senso, Tosoni, Migliorati ed io partimmo insieme, giacché si doveva andare dal generale Laturmanburg per sapere dove si trovavano i nostri reggimenti. Camminammo due giorni prima di raggiungere l'armata, che marciava con tanta rapidità che il nemico chiedeva, in grazia, un poco tempo per bevere l'acquavite. Il campo di battaglia faceva orrore dai morti e feriti che vi erano, che oltre ad essere lasciati senza soccorso, erano anche spogliati e lasciati quasi nudi, costretti a morire là di fame, di abbandono e restare poi cibo per i corvi. Leggendo queste ricche mi è venuta una riflessione forse stupida, banalissima. La storia esiste, il tempo scorre, mutamenti sono percepibili, ma certe immagini della storia d'Europa sono terribilmente costanti e ritornano. Le vediamo anche oggi. Aurora. No, ho sbagliato tutto, scusate. Il presidente Zanca. A questo punto si collega? Sì, sono già collegato, mi sentite, spero. Buonasera a tutti. Un saluto particolare a Laura, agli amici in uniforme. Niente, io sono a brevissimo perché non voglio togliere il tempo da quella che è l'illustrazione di questo libro, molto importante. Semplicemente per spiegare un po' come è nato questo libro. Perché è nato in maniera del tutto casuale. È nato grazie ai moderni mezzi, diciamo così, internet, perché casualmente hanno invenuto il suo script all'interno di un sito, di una accademia, l'ho letto, sono rimasto fulminato da questo scritto che per me era incredibile, perché è uno dei pochissimi diari in lingua italiana, forse unicum, disponibili. Io a quel punto, con la mia caccia tosta, a volte ne ho, ho preso coraggio e ho scritto una mail a Laura, la quale, devo dire, gentilmente, immediatamente mi ha risposto e nel giro veramente di poche settimane avuto l'approvazione da parte della mia associazione, avevo deciso di pubblicare questo libro. Una scelta felice, una scelta convinta, una scelta che si inserisce anche all'interno di un programma editoriale che abbiamo cominciato a sviluppare grosso modo dal 2017-18, quando abbiamo cominciato a pubblicare il primo libro, sempre dietro a Napoleonica, che era il libro sulla battaglia della favorita, cioè una battaglia che tutti più o meno conoscono, ma sulla quale nessuno aveva mai scritto. L'ho poi proseguito con un libro su Rivoli, battaglia certamente più nota, nella quale abbiamo trovato nuove fonti, specialmente di lingua tedesca, e abbiamo, come dire, siamo riusciti ad offrire, spero, una diversa interpretazione di questa battaglia. E durante il Covid abbiamo proseguito con i libri sugli assedi e quindi anche il libro su Bargagni. E ripeto, essere per noi veramente un fiore all'occhiello, consapevoli dell'importanza storiografica di questo manoscritto e devo dire anche piacevolmente colpiti da quello che è stato il commento poi di Laura a questo libro, perché, come diceva chi mi ha preceduto, è un commento preciso, è un commento esaustivo, è un commento competente. Io qua veramente mi fermo, vorrei lasciarla parla agli altri, perché non voglio veramente rubare ulteriore tempo. Vi ringrazio ancora e mi raccomando, prendetelo e leggetelo. Grazie. Buonasera a tutti, anche da parte mia. Io stasera ho solo l'immeritato compito, nonché onore, di coordinamento di questo pomeriggio. Lo faccio molto volentieri, sono grata di questo all'Accademia degli Intronati, all'Associazione Napoleonica e non troppo tempo fa si parlava di rievocazioni napoleoniche e del peso. Era una riunione di lavoro dell'Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale che sta valorizzando anche la rievocazione storica e vedevamo quanto il peso in questa pratica proprio delle associazioni e delle rievocazioni napoleoniche. Come abbiamo organizzato questa serata? Laura Vigni ha una quindicina di minuti, 15-20 minuti per darci qualche pillola, qualche spiegazione di questo volume, di questo diario che però non è solo l'edizione del diario, chi apre questo libro vedrà che c'è un corposo saggio, ne parlavamo con Laura prima di cominciare, in realtà è un librino a sé dove l'epopea di Giuseppe Bargagli è inserita anche nelle dinamiche cittadine e di altre famiglie della città. Dopo questa presentazione di Laura avremo letture scelte dal diario che saranno fatte, li dico in ordine, da Francesca Croci, Leonardo Cannoni e già da Costantini e già da Costantini del liceo classico Piccolomini classe quarta A. Li volevo ringraziare da parte di tutti, so che è un periodo molto complicato, molto impegnativo e siamo veramente felici di averli qui con noi stasera insieme al loro professore Achille Mirizio. Poi, ecco, finita questa parte di letture del diario, interverranno da remoto prima Luigi Mascilli Migliorini e poi Francesco Mineccia. Vi do una breve presentazione dei nostri ospiti prima di lasciare la parola a Laura. Di Luigi Mascilli Migliorini ha già detto moltissimo il professor Barzanti, accademico dell'incei, studioso molto noto dell'età napoleonica e della restaurazione. Fra l'altro per gli appassionati su Rai Play ci sono due bellissime puntate di passato e presente con il professor Mascilli Migliorini. Una è dedicata a Metternich, l'altra al pensiero di Mazzini. Il professor Mascilli insegna storia moderna e storia dello spazio transatlantico all'Università di Napoli l'Orientale. La sua opera più nota è senz'altro la monografia dedicata a Napoleone in prima edizione nel 2002 ma poi più volte ripubblicata, ampliata. La biografia dedicata a Metternich, un libro che piace anche moltissimo agli studenti, Le verità dei vinti, quattro storie mediterranee. è un piccolo libro molto bello che si apre con la presa di Costantinopoli nel 1453 immaginando cosa gli abitanti della città provano prima della sua caduta. Mascilli Migliorini ha lavorato moltissimo anche sulla storia della Toscana. Ricordo solamente la storia d'Italia, i volumoni i volumoni di UTET, l'importante collana diretta dal maestro del professor Mascilli, cioè il professor Giuseppe Galasso, e del professor Mascilli Migliorini la parte dedicata alla Toscana di Pietro Lopoldo, cioè la parte della reggenza di Furio Diaz, poi Mascilli Migliorini e poi Carlo Mangio che fa la parte diciamo fra sette e ottocento. è anche direttore scientifico di una Summer School bellissima che si svolge a Procida ogni anno a fine settembre. Siamo arrivati alla diciottesima edizione di Cosiamo perché mi sento parte di questa bellissima impresa della Summer School. È un appuntamento molto bello dedicato alla storia del Mediterraneo. Come ha detto anche il professor Barzanti è stato ospite dell'Accadema degli Intronati qui il 15 aprile del 2021 con la conferenza su Napoleone fra mito e storia. L'Accadema degli Intronati gli è particolarmente grata per questa sua generosa disponibilità. Francesco Mineccia ha insegnato storia moderna, storia sociale e metodologia della ricerca storica all'Università del Salento. Ha scritto monografie, saggi di storia economica e sociale in età moderna e contemporanea e anche sulla divulgazione e l'uso pubblico della storia in riviste e volumi collettanei. Ricordo solamente la sua monografia dedicata a Fiesole, La pietra e la città nell'ambito di un progetto di tanti anni fa promosso dall'Istituto Universitario Europeo e diretto dal professor Stuart Wolf sull'identità urbana in Toscana. Francesco Mineccia ha lavorato su Fiesole e su queste e con la Lucia Carle su Montalcino, Rossano Pazzagli, mi sembra su Suvereto, tutta una serie di volumi editi da Marsiglio Editore. Ricordo anche proprio perché sono interessi forti di Francesco Mineccia ma danno anche il senso degli interessi della rivista Ricerche Storiche, un volume monografico in Ricerche Storiche dedicato a Media e Storia dove Francesco Mineccia ha pubblicato un saggio dedicato al tema della storia per il grande pubblico la seconda guerra mondiale appuntate nelle edicole italiane. Mineccia è un grandissimo esperto di questo tipo di operazioni editoriali ed ha un archivio privato sulla materia veramente notevole. È direttore appunto della rivista Ricerche Storiche che festeggia questo anno il suo cinquantesimo anno di attività con un numero speciale che è da poco acquistabile attraverso il sito di Pacini Editore è un numero molto bello per chi può insomma consiglio di vederlo anche perché c'è un interessante forum dedicato alle riviste di storia e adesso passo a Laura che non ha bisogno di presentazioni però mi fa comunque piacere di percorrere questa biografia che per tanti versi si è intrecciata con la mia allora Laura è dottoressa di ricerca in storia socia dell'Accademia degli Intronati di Siena ed è stata per vari anni direttrice della sezione di storia dell'Accademia ha svolto il dottorato di ricerca in storia urbana e rurale presso l'Università di Perugia con una tesi di dottorato che già Roberto Barzanti stava ricordando sul notabilato urbano di primo ottocento a Siena la tesi di dottorato ha poi avuto come esito il libro del 1997 su Patrizia e Bottegaia a Siena sotto Napoleone ieri presenta la presentazione del libro sono vecchissima e avvenne se non ricordo male Laura al Santa Maria della Scala Cappella del Manto Cappella del Manto e mi ricordo una presentazione proprio focosa del professor Stuart Wolf che a un certo punto disse questa cosa mi è sempre restata in mente disse Laura Vigni Laura Vigni a Siena cerca la borghesia ma non la trova giusto Laura? mi colpì tantissimo perché poi questa cerca la borghesia ma la borghesia non c'è cioè mi disse comunque intendeva dire di questa polarità no? popolo nobili che è tanto importante anche per i miei studi sulle contate poi nel 97 Laura assume la responsabilità dell'archivio storico comunale di Siena e anche in questa occasione c'ero perché era una giornata di lavoro all'archivio di Stato di Siena e mi ricordo che questa notizia fu comunicata al popolo presente e partì un applauso fragoroso del professor Duccio Balestracci giusto Duccio era una giornata di studio lì all'archivio di Stato di Siena nel ruolo proprio di responsabile dell'archivio storico del comune ha curato pubblicazioni mostre cicli di conferenze per valorizzare e far conoscere la documentazione conservata all'archivio storico del comune di Siena anche per me questo è un aspetto molto importante che si intreccia tanto forse anche alla militanza di Laura questo senso di responsabilità e del dovere di portare l'archivio fuori dall'archivio ed è un aspetto che fu giustamente sottolineato da Balestracci quando nel 2012 presentò Laura e la sua biografia in occasione del conferimento della medaglia di civica riconoscenza pubblicazioni e temi libri di cui è stata curatrice e ideatrice sono moltissimi la storia dei bottini sotterranei di Siena la situazione igienica della città fra 600 e 900 la disciplina dell'attività delle elevatrici i suoi primi studi sono sul Santa Maria della Scala sul Paglio di Siena mi piace ricordare un suo testo ancora secondo me utilissimo sul regolamento del Paglio di Siena all'interno di Uomini e Contrade il funzionamento degli organismi comunali l'architetto Vittorio Mariani le problematiche del commercio ambulante in Piazza del Campo e tutte veramente attività che così hanno lasciato un segno e sono ormai diventate anche dei classici della nostra storiografia non solo non solo locale dicevo che per molti versi tanto parte del lavoro di Laura si intreccia alla mia biografia e veramente la ringrazio ancora oggi di questa fiducia e di aver accolto anche tante proposte che venivano fatte ricordo la nostra stretta collaborazione per Uomini e Contrade di Siena memoria e vita di una tradizione cittadina atti di questo ciclo di conferenze insomma per me è un ricordo carissimo era la prima volta che esponevo i risultati della mia tesi di dottorato poi questa cosa particolare che fu ragazzi per la Contrada cioè sulle citazione dell'allora sindaco Maurizio Cenni ideammo un corso di formazione per i ragazzi delle Contrade c'era una parte formativa quindi una serie di lezioni e poi visite e scambi nei musei di Contrada di cui gli stessi ragazzi erano protagonisti ed è un corso che veramente è tra i miei ricordi più cari ieri ieri ho avuto una mail dell'archivista del Bruco che mi diceva io fui parte di quel drappello che fece il corso è stata una grande soddisfazione e da ultimo sempre in collaborazione con Laura il ciclo di conferenze poi libro una città al femminile in questo libro una città al femminile Laura affronta i salotti nobiliari del secondo settecento a Siena i salotti delle aristocratiche senesi figure pienamente immerse nelle dinamiche politiche del periodo Pietro Leopoldino pro o contro le riforme il suo bel testo che si intitola i salotti tra politica e cultura a Siena si muove attraverso gli archivi privati familiari tra le altre fonti anche gli archivi privati familiari fra i quali l'archivio della famiglia San Sedoni conservato all'archivio del Monte dei Paschi di Siena uno dei suoi filoni di studio è infatti la storia delle famiglie nobili cittadine da prima nel volume dedicato a Palazzo San Sedoni poi in quello intitolato Architettura e disegno urbano a Siena poi è già stata ricordata nel 2016 l'edizione del diario di Ermellina Bargalli Ermellina Bargalli scusate ed ancora la pubblicazione nel 2021 di piaceri affanni di un giovane libertino sulla vicenda biografica del figlio di Ermellina lo stesso anno in cui è stato pubblicato il volume che stasera qui si presenta e che mi preme ricordare è anche in vendita all'ingresso dell'accademia adesso do la parola a Laura Vigni per la sua illustrazione del diario invece la riprendo io perché voglio ringraziare Aurora ora ho capito perché sono stato diffidato da dire troppe cose perché voleva fare una conferenza che c'è stata di grande utilità perché abbiamo ripassato la bibliografia di Laura e di tanti altri la ringraziamo e ora preciso perché forse me l'ero dimenticato tutte queste bibliografie mi danno ai nervi Laura insegna storia moderna e storia del Mediterraneo sicché Aurora insegna storia moderna e storia del Mediterraneo schiimmateria non gli manca all'orientale di Napoli e quindi la ringrazio molto do la parola a Laura Vigni e che di lui è stato detto quasi tutto prego entro subito nel cuore della storia di cui si parla stasera il diario di Giuseppe Bargagli faceva parte delle memorie della famiglia Bargagli guardate che le famiglie nobili che hanno conservato delle memorie non sono tante a Siena si contano veramente sulle dita di una mano se non meno e quella della famiglia Bargagli è in effetti una decisione che viene presa nel 1749 di scrivere le memorie della famiglia ricostruendo la storia a partire dal 1640 quindi è una tradizione familiare nel cui ambito si inserisce anche Giuseppe devo dire che le memorie della famiglia Bargagli dovrebbero essere pubblicate fra poco perché il dottor Matteo Calcagni che stasera non è potuto venire ha dedicato la sua tesi con il professor Zagli proprio a questo manoscritto che è una miniera di notizie sia sulla politica familiare economica di relazioni sociali che faceva la famiglia Bargagli i vari membri della famiglia sia sul periodo quindi è una spero che esca prima possibile quando Giuseppe tornò non aveva ancora scritto tutto il diario diciamo che aveva l'avete notato preparato cioè fatto proprio come diario il periodo in cui stette sotto assedio nella cittadella di Neuf-Brezac sul Reno il resto quello a partire dal 1812 quando era partito lo aveva perduto perché in un assalto di Cosacchi i francesi partirono in una fuga disperata e lui perse il diario tutte le lettere che aveva ricevuto da casa purtroppo non ci sono non si sono state distrutte rovinate non si sa come quindi tornato a Siena ricominciò a ricostruire questa esperienza e appena il diciamo il volume la parte del memoria fu pronto il padre e il fratello glielo presero e dissero ma questa è una testimonianza che merita di avere una sua autonomia e ne fecero un opuscolo un opuscolo autonomo quindi con una sua particolarità talmente interessante sembrò a loro che ugualmente interessante apparve alla fine dell'ottocento al nipote di Giuseppe cioè Pierluigi Bargagli che insieme al biscugino Pandolfo Bargagli Petrucci lo copiarono e poi lo trascrissero a macchina lo fecero trascrivere a macchina una vecchia macchina da scrivere una delle prime penso in uso a Siena e venne realizzato in varie copie infatti le copie furono distribuite fra i vari rami della famiglia Bargagli l'originale di questo manoscritto risulta presente nell'elenco di consistenza dell'archivio Bargagli Bardi Bandini del 1941 quando venne notificato alla prefettura poi diciamo che le successive divisioni fra le varie famiglie ne hanno determinato l'impossibilità di trovarlo quindi l'originale non si sa dove sia purtroppo la copia che si è utilizzata per questa pubblicazione è quella individuata dall'architetto Marina Gennari molti anni fa nell'archivio privato della famiglia Bargagli Petrucci quando ancora non era depositato all'archivio di Stato cosa di cui gli siamo tutti molto grati soprattutto Franco Bargagli che è qui presente che vedo in prima fila perché l'archivio di questa famiglia è così importante per la storia di Siena che dico comincia dal Settecento e arriva fino ai giorni nostri fino all'ultimo potestà Bargagli questo libriccino a noi è apparso in una forma piuttosto piccola piuttosto piccola di 141 pagine rilegato corredato dalla riproduzione del ritratto che probabilmente venne fatto a Giuseppe quando partì per andare a fare la guardia d'onore si può vedere l'immagine 1 ecco questa è l'immagine che compare anche devo dire la verità era in bianco e nero era in bianco e nero e perché è l'originale del ritratto non si sa nemmeno questo dove sia adesso per cui il grazie all'editore a Massimo Zanca che è stato preziosissimo nel realizzare la pubblicazione abbiamo cercato di rendere il colore dell'uniforme perché aveva la giacca rossa gli alamari il colletto blu e i pantaloni bianchi cioè una divisa perfetta per fare la guerra ti individuano subito quindi era evidente che non era per fare la guerra quella divisa ma era per apparire più più appariscente per fare la sua figura accanto alla granduchessa c'era anche una foto scattata dagli alinari perché lui negli ultimi anni della sua vita si trasferì a Firenze ultra sessantenne io però purtroppo non sono più riuscita a trovarla e mi dispiace ve l'avrei fatta vedere volentieri lui era nato alla fine del settecento e nel 1809 aveva 19 anni 19 anni in quell'anno l'anno prima per sua sfortuna la Toscana era annessa all'impero napoleonico e venne introdotta la leva obbligatoria molti giovani dai 20 ai 25 anni estratti a sorte secondo le necessità militari di ogni anno partivano per la guerra e partivano per la guerra vera perché il centotredicesimo di linea che raccoglieva i soldati di Siena andò in Spagna dove fu la guerra più terribile perché Napoleone non riuscì a conquistare la Spagna incontrò una resistenza da parte della popolazione ferocissima ci furono cose orribili da tutte e due le parti e insomma se lui dove fosse dovuto andare in Spagna sarebbe stato un disastro e così pensò il padre che disse non è possibile che possa marciare con i coscritti per cui nell'anno in cui arrivò in Toscana Elisa Baciocchi la sorella di Napoleone venne costituito un corpo di guardie d'onore cioè un gruppo vestito come militari ma che doveva soprattutto accompagnarla nel fare parate accompagnarla in una frenetica vita mondana perché si trovano annotazioni su feste di carnevale su ricevimenti cose per tutta la Toscana quindi queste 80 guardie d'onore per lo più figli di nobili ma non tutte figli di persone che comunque potevano pagare perché era riservata ai 600 più tassati di ogni dipartimento alla fine il padre decide di arruolarlo volontario fra l'altro poi il padre Girolamo fa delle buffe notazioni sul fatto si dice volontario ma in realtà io ho dovuto pagare questo 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 e addirittura mettere un'ipoteca su un podere per garantire perché dovevano essere la famiglia a pagare il soldo del soldato come appunto lui era un ragazzo tranquillo aveva fatto aveva avuto degli istitutori privati poi aveva fatto alcuni aveva seguito alcuni corsi al Tolomei e non aveva nessuno non aveva sviluppata nessuna particolare passione per Napoleone anzi nella casa si guardava a Napoleone come il diavolo quindi l'opinione che circolava fra l'aristocrazia senese era di limitare i danni diciamo e quindi viene accettato in questo corpo delle guardie d'onore grazie alla posizione sociale e alla ricchezza della famiglia lui stette a Firenze dal 1809 al 1812 in questa comoda posizione bisogna dire poi i primi dell'agosto del 1812 improvvisamente venne deciso venne deciso da Napoleone che aveva bisogno anche di quelle 60 guardie d'onore toscane per collaborare alla campagna di Russia e così si trovarono nell'arco di una quindicina di giorni tutti i loro progetti tutte le previsioni di poterlo tenere lontano dai pericoli della guerra erano andati a monte nel diario lui racconta con il tono che diceva Roberto tutti i paesi attraversati le tecniche perché lui era un tipo curioso gli piaceva vedere come facevano la meridiana per esempio aveva osservato che nella cattedrale di Bologna c'è una meridiana simile a quella che c'è a Siena e quindi attraversa tutta l'Italia verso prima Verona dove si riuniscono con le altre guardie d'onore del principe Camillo Camillo Borghese e poi affrontano entrano diciamo nel territorio Innsbruck l'Austria eccetera in genere l'osservazione è un po' monotona diciamo un colpo è veramente l'attraversamento della Polonia perché trovano una cosa che non si immaginavano loro avevano attraversato città paesi belli con giardini con una vita normale osterie alberghi vita sociale normale arrivano in Polonia e trovano questi villaggi nel fango i contadini che vivono in queste baracche di legno insieme agli animali e hanno delle tecniche rudimentali anche per coltivare la terra tenuti proprio a distanza dai baroni di cui si vedono qualche qua e là i castelli i quali controllano praticamente ogni risorsa del paese la povertà della Polonia veramente lo colpisce io ho l'impressione che lui si sia appoggiato anche a qualche testo per a qualche testo già scritto perché insomma non tutti quei dettagli credo che li abbia potuti cogliere in questo attraversamento della Polonia praticamente lui era arrivato al luogo più lontano dove erano arrivati era Varzavia e Varzavia se mi mettete l'immagine ecco allora questa è un quadro di Pelotto allora tenete conto che probabilmente Giuseppe aveva visto questa città perché dopo la seconda guerra mondiale la città venne distrutta ed è stata ricostruita utilizzando i quadri di Belotto perché i dettagli dei colori delle forme dei palazzi eccetera sono quelli che aveva visto Giuseppe non ci restarono molto a Varzavia perché la guerra andava male ritornavano i reduci dalla Russia con i piedi congelati e dicendo che la campagna di Russia stava andando male infatti nel novembre 1812 Napoleone dovette abbandonare Mosca che aveva occupato inutilmente per qualche mese e a gennaio Varzavia cadeva nelle mani dei russi quindi loro proprio loro scappavano e i russi arrivavano da questo punto comincia la consapevolezza del cattivo andamento della guerra e le guardie d'onore così come erano non andavano più bene vennero ricostituiti nuovi reggimenti di guardie d'onore ma a chi già lo era gli venne data la possibilità di scegliere se entrare nell'esercito regolare o continuare a fare la guardia d'onore discussero molto questo c'è nel testo discussero molto fra i militari che cosa conveniva fare ma diciamo che ormai alcuni erano presi dalla smania del militare dalla passione per questo anche per correre i rischi però l'atmosfera eccitata della guerra sicuramente lo aveva in qualche modo affascinato e quindi lui decide di entrare nell'esercito regolare e lo assegnano al sedicesimo cacciatori a cavallo immagine ecco questa era la divisa che doveva portare un po' scomoda insomma non si sa bene come combattessero così e a giugno del 1813 quindi qualche mese dopo venne fatto un armistizio fra la Russia e l'impero francese e anche perché c'era uno stallo nella guerra perché Napoleone vinceva alcune battaglie altre ne perdeva e non ci si muoveva da lì quindi venne fatto un armistizio in questo periodo a Dresda si trovava Giuseppe ed era proprio il periodo in cui c'era anche Napoleone in cui aveva posto il suo comando generale proprio a Dresda fra l'altro lì ebbe l'incontro con Metternich quello che si concluse con la grande litigata con Metternich che gli disse tu perderai la guerra non ti devi rassegnare alle nostre pesanti condizioni perché gli avrebbero imposto delle condizioni tipo di ritornare entro i confini dell'epoca della rivoluzione francese e Napoleone naturalmente le aveva negate a Dresda fa il turista non solo Napoleone che porta l'opera francese fa diventare Dresda quasi una capitale della cultura ma fa il turista anche Giuseppe questa è un'immagine di Dresda del mercato vecchio e poi c'è l'altra Dresda e poi no c'è l'altra ecco questa quello si chiama Augustus Bruche ponte di Augusto Giuseppe non lo vide così perché questo ponte venne distrutto e ricostruito più volte negli inseguimenti fra un esercito e l'altro per cui l'esercito che abbandonava Dresda lo buttava giù per non farsi inseguire l'esercito che voleva entrare a Dresda lo ricostruiva per cui anche quando c'era appunto Giuseppe i commilitoni di Giuseppe i soldati del Genio ricostruirono in una notte due arcate di questo ponte che erano state distrutte accannonate quindi questo è uno del tenete conto che Dresda subì una distruzione proprio terrificante nella seconda guerra mondiale un bombardamento inutile quanto disastroso e anche Dresda è stata ricostruita con sulla base dei disegni di Belotto che prego accelero accelero scusate scusate sono ah si 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 e quindi quando riprese la guerra però fu chiaro che la situazione andava peggiorando e la grande armata si era ridotta e fuggendo dai russi che ormai si erano alleati anche con gli austriaci ritornarono sul Reno e sul Reno nella fortezza di Breisac si posizionarono Giuseppe con i suoi soldati in tutti erano 4.000 dove ci rimasero fino al giugno del 14 nell'immagine successiva questa è la pianta che aveva disegnato il Vauban per la costruzione della fortezza di Neuf Breisac e la successiva è come si presenta oggi questa cittadella ecco una cosa velocissima volevo dire dopo la resa delle truppe dopo la resa alle truppe russe austriache che l'assedio durò molto dentro la fortezza a giugno del 14 finalmente Giuseppe è libero dagli obblighi militari e va a Parigi per ritirare tutti gli attestati perché lui non voleva essere un disertore come altri avevano fatto vende la divisa cosa di cui si rammarica moltissimo e si trasforma in un turista colto e curioso spettacoli vita sociale eccetera vi rimane un mese il 16 luglio parte verso l'Italia un'ultimissima cosa a cui ha accennato anche Aurora che vorrei su cui vorrei un momentino offrirvi la mia riflessione come avrete notato negli ultimi anni ho scelto come fonte preferenziale per le mie ricerche diari e corrispondenza privata già sono state accennate le cose che ho fatto su questa traccia perché mi interessa avvicinarmi ai sentimenti e alle emozioni delle persone al loro modo di vivere alle abitudini sociali diciamo che dalla storia istituzionale non le identifica con precisione il rapporto è spesso conflittuale sono attenta a mantenere una certa distanza dall'oggetto della ricerca non so se sempre ci riesco perché di Giuseppe naturalmente mi sono innamorata come sarà stato evidente cerco di fare attualizzazioni che rischiano di essere fuorvianti anacronistiche mantenendo ben presente il contesto storico e sociale però ecco questo è un po' il mio taglio in prospettiva perché mi sono spiacente ma io continuerò ad occuparmi di storia grazie Laura perché hai fatto proprio una panoramica dell'itinerario di Giuseppe e sono pienamente d'accordo con te quando parli di diari di corrispondenze poi chi è anche impegnata nell'insegnamento della storia sa quanto queste fonti poi riescono ad appassionare i cosiddetti discenti perché ti fanno attingere che cosa le persone le soggettività quindi questo penso che sia un filone che assolutamente vale la pena continuare e adesso ci è veramente gradito ascoltare Francesca Francesca Croci nelle letture che ci propone Francesca si siede vicino a Laura buonasera buonasera a tutti io sono Francesca della Quarta del Liceo Classico e vi porterò una riflessione che abbiamo fatto con i nostri compagni innanzitutto partirei col dire che dopo tutto Giuseppe non è così distante da noi a partire dal fatto che noi siamo quasi e diciottenni insomma e Giuseppe aveva ventun anni perciò anche l'età alla fine non è tanto differente e una cosa che invece ho trovato come grande differenza è il fatto che ho pensato che se mi avessero chiamato in guerra che visti i tempi purtroppo sembra non essere una cosa più così tanto astrusa ecco se mi avessero convocato a combattere sicuramente sarei stata pervasa da paura panico anche mentre Giuseppe non sembra impaurito o preoccupato anche all'idea di dover combattere anzi parte piuttosto direi sereno e quello che più ci ha stupito è che anche durante il viaggio non sembra prendere atto del fatto che sta effettivamente andando in guerra anzi come è stato già detto si comporta quasi come un turista che alle volte si lamenta anche di non aver visitato certi luoghi o come cita in più passi ora magari ne leggo due che mi sono sembrati piuttosto significativi qui per esempio dice scrisse anche ad alcuni amici suoi in altri paesi per i quali si doveva passare affinché non si fosse trattati come semplici soldati ecco già che uno si possa permettere di avere una per così dire raccomandazione è indice del fatto che dopo tutto questa guerra insomma non sembrava essere una cosa così sofferta anzi o un altro che mi ha fatto quasi sorridere fui alloggiato in un'osteria con tosoni buonsignori e castellini dove si dove questionare per avere un letto pulito essendo bene alcuni pieni di animaletti 10 minuti per colore attenzione c'è qualcuno con il microfono ok appunto ho pensato se sei in guerra non dovresti lamentarti di non avere un letto pulito anzi dovresti ringraziare di averne uno visto che spesso ecco era era tanto se potevano dormire sulla paglia invece lui si lamenta addirittura e ha un letto con degli animaletti ecco quindi ci è sembrato piuttosto singolare questo fatto che più che come una guerra questa sua esperienza sia stata vissuta come un viaggio e sicuramente è stato un punto di vista interessante e nuovo perché la storia che ci viene spesso insegnata sui libri non è vista da questo punto di vista e quindi è stato molto interessante approfondire anche da da un altro aspetto sì che però appunto c'è il risultato singolare e anche inaspettato perché non non avremmo pensato di trovare riflessioni del genere o appunto lamentele addirittura grazie passo la parola al mio compagno Leonardo Leonardo Pannoni grazie Francesca buonasera a tutti come ha detto Francesca nel diario Bargagli non è molto profondo nel descrivere la guerra non non butta dentro la sua le sue emozioni i suoi sentimenti però magari anche in maniera inconsapevole ci regala dei piccolissimi ma validi esempi in particolare della potenza trasformante e distruttiva della guerra che è sempre quella non cambia mai e lo possiamo vedere anche in tempi moderni e riguardo a questo mi ha colpito mi ha fatto riflettere un passo in particolare che è questo in cui lui descrive la città di Berlino e dice ma Berlino era molto cambiata e non si riconosceva i cannoni erano alle principali strade con la miccia sempre accesa fino ai ragazzi che altre volte venivano ad offrirci di accompagnarci ora ci facevano le urlate quindi la guerra che trasforma trasfigura la città e oltre alla città distrugge questa è una riflessione che mi è venuta leggendolo anche i rapporti umani in altri passi precedenti Giuseppe parlava della popolazione che che accoglieva l'esercito quasi con una festa però quando in qualche modo la guerra getta la maschera ecco la gente del posto si accorge della della crudeltà in qualche modo in qualche modo e la guerra non distrugge solo i rapporti tra gli uomini ma anche gli uomini stessi non solo sul campo ma come Bargagli scrive in un passo poche pagine dopo anche a livello psicologico infatti parla di un suo commilitone Buon compagni Buon compagni impazzì e poi si gettò dalla finestra nel tempo che Spannocchi era da lui quindi in qualche modo ci dà testimonianza che l'atmosfera era tutt'altro che leggera ecco grazie 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 Leonardo perché hai non lo so insomma hai fatto una cosa molto bella e si Giada Costantini Buonasera io avrei una domanda per l'autrice secondo lei ora che c'è la guerra in Ucraina quali valori possiamo riprendere dal periodo napoleonico? Quali valori? sì vediamo il fondo dopo perché abbiamo un'attesa che per c'è grazie a voi allora chi avrei prima Francesco Mineccia Francesco sei collegato una decina di minuti va bene Francesco che siamo andati un po' oltre con la nostra tempistica certo ti ho già presentato quindi puoi puoi darci la tua lettura del diario sì mi riallaccio il tema che mi era stato affidato era il diario nella letteratura di viaggio e effettivamente quello che è già emerso da tutti gli interventi è che Giuseppe la guerra non l'ha fatta salvo qualche momento un po' pericoloso durante la ritirata ma ha fatto il turista e quindi riflettendo su questo e dovendo parlare del diario nella letteratura di viaggio si può dire che proprio dai diari dagli epistolari sono scaturite molte famose opere letterarie e qui basterebbe ricordare per fare solo un esempio il viaggio in Italia di Goethe che fu pubblicato sulla base di suoi diari e lettere che in origine erano destinati alla signora von Stein a Herder e ai suoi amici di Weimar quindi il diario ha accompagnato spesso i viaggiatori che fossero intellettuali come Peter Stendhal e tanti altri artisti diplomatici e funzionari statali aristocratici ma anche in molti casi semplici commercianti e da tempo devo dire gli storici si sono interessati sempre di più a questo tipo di fonti per analizzare non soltanto i luoghi e le società in essi descritte ma pure la mentalità di chi le descriveva e anche questo è un po' emerso da tutti gli interventi e anche dai ragazzi che hanno colto molto bene certi aspetti del diario di Giuseppe e comunque per questi aspetti rimanderei al saggio di Maurizio Bossi viaggi e viacciatori per chi si interessa a queste tematiche che fu pubblicato nel dizionario critico dell'Italia napoleonica curato da Luigi Mascilli Migliorini poi vorrei aggiungere che sulla base di questa memorialistica sono state pubblicate importanti ricerche e anche in questo caso ne cito solo una per non perdere troppo tempo che conosco molto bene tra l'altro avendola presentata qualche anno fa a Napoli insieme appunto all'amico Mascilli Migliorini e mi riferisco al bel libro di Rosa Maria Dell'Iquadri dal titolo nel sud romantico diplomatici e viaggiatori inglesi alla scoperta del mezzogiorno borbonico ora in questo lavoro Dell'Iquadri inquadrava il complesso problema del mezzogiorno nell'età della restaurazione quindi siamo un po' dopo dopo la fine dell'avventura napoleonica e lo faceva attraverso una chiave di lettura per così dire esterna al regno borbonico quella propria di chi veniva da fuori così dall'incrocio di fonti archivistiche inedite di quelle che si occupa Laura come ci ha detto appena adesso quindi diari appunto relazioni e corrispondenze in questo caso di diplomatici inglesi presenti a Napoli tra il 1816 e il 1840 incrociati con le testimonianze di viaggiatori e scrittori anglosassoni che visitavano il regno in quel medesimo periodo ne emerge un'immagine del sud che per certi versi riprende e consolida alcuni stereotipi negativi elaborati da molti dei protagonisti del Grand Tour settecentesco comunque in particolare poi per quanto riguarda l'Italia più in generale ricordo i lavori di Attilio Brilli e soprattutto il viaggio in Italia la storia di una grande tradizione culturale e quando viaggiare era un'arte il romanzo del Grand Tour detto questo un discorso a parte va fatto per i diari dei militari come quello che presentiamo oggi della Guardia d'Onore Giuseppe Bargalli qui salvo casi rarissimi non si può parlare di opere letterarie ovviamente quanto semmai di documenti utili per studiare gli effetti e la percezione della guerra dal basso lo hanno appena detto i ragazzi da chi cioè la guerra la combatteva non dunque raccontata da generali e politici ma dai soldati al fronte e dalle loro famiglie a casa ora un'altra cosa da tenere presente è che il diario tenuto dai militari da quelli che lo scrivevano serviva principalmente per occupare la mente e soprattutto cercare di sopravvivere in genere si scriveva prevalentemente nei momenti di relativa calma durante viaggi e gli spostamenti quello che fa appunto Giuseppe al contrario salvo rari casi nelle zone operative o nei momenti di battaglia gli scritti sono appena accennati se non del tutto assenti ed è appunto ciò che fa Giuseppe Bargalli e così molti altri io mi sono di recente mi sono imbattuto in un altro diario di un giovane militare toscano redatto un secolo dopo praticamente dopo quello di Giuseppe siamo dell'ultimo anno della grande guerra e il reparto in cui era inquadrato il militare in questione viene inviato via mare in estremo oriente in Siberia in Siberia orientale per essere preciso dove doveva assumere il controllo di un tratto della transiberiana a sostegno dell'armata bianca dell'ammiraglio Kolchak contro le truppe bolsheviche ebbene questo soldato descrive nei dettagli il lunghissimo viaggio di quasi due mesi e descrive i luoghi e soprattutto gli ambienti e le società che incontra ma quando arriva in zona di guerra le sue pagine si diradano fino a poi interrompersi del tutto ora a differenza di Giuseppe ovviamente un secolo dopo dispone però di uno strumento che gli consente di documentare anche visivamente il suo viaggio che è una macchina fotografica con la quale scatta quasi 200 fotografie che poi i suoi eredi hanno raccolto in un album di grande interesse storico perché anche questo diario si è tradotto in un libro attualmente in corso di stampa dal titolo Missione in Estremo Oriente da Lucolena a Vladivostok 1918-1920 una storia sconosciuta raccontata dai diari dei protagonisti ora sul tema della diaristica della memorialistica ci sarebbe da parlare per ore però visto che il tempo ormai è un po' volato via sarei dell'opinione che mi fermo qui salvo poi ci fosse qualche domanda alla quale rispondo volentieri grazie 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 a Francesco Mineccia che ci ha collocato il diario di Giuseppe Bargagli in questo filone lungo del diario di guerra mi veniva in mente che poi è un filone che esplode con la memorialistica garibaldina dove abbiamo veramente un fiorire di scritture maschili direi perché invece autobiografie o diari femminili non è non è così non è così facile trovarli e individuarli darei ora la parola a Luigi Maschilli Migliorini al quale lasciamo anche la chiusura di questa serata vediamo vediamo uno sfondo particolare sì sono in una posizione intermedia nel senso che stavo per raggiungere un luogo un po' più tranquillo ma mi sembra che non sia possibile e allora mi fermo qui e cerco di partecipare con voi tra l'altro ho ascoltato adesso da ultimo queste osservazioni fatte da da Aurora sulla memorialistica garibaldina che mi sembrano molto giuste per il diciamo per allargare anche lo spazio della nostra visione tra l'altro in questo momento mi sto occupando di un libro dedicato allo sbarco a Marsala di Garibaldi e questa memorialistica quindi mi è molto presente e in qualche modo ne colgo sia le somiglianze diceva adesso avrora ma anche le profonde diversità con quella che alla quale appartiene il libro di cui parliamo stasera libro che secondo me come dire per un verso potrebbe sembrare simile a molti altri e qui c'è proprio questa categoria generale della memorialistica napoleonica che come la memorialistica garibaldina sembra una specie di grande tappeto che copre un po' tutto mentre al contrario poi quando si entra più nel dettaglio delle singole realtà come proverò a fare tra qualche minuto vediamo che la categoria si scompone la categoria si scompone per molti motivi innanzitutto perché le guerre napoleoniche sono delle guerre molto lunghe e le memorie non sono sempre così lunghe anzi quasi mai perché i coscritti napoleonici si succedevano gli uni agli altri talvolta in maniera meno immediata ma talvolta molto rapidamente in particolare proprio la fase a cui appartiene il volume della Baragai sono gli ultimi anni dell'impero napoleonico sono gli anni nei quali la coscrizione si è profondamente mutata la campagna di Russia obbliga dei reclutamenti totalmente nuovi 1812-1814 vuol dire avere per così dire non solo delle forze fresche tra virgolette intese come giovani nuovi che vanno alla guerra ma anche memorie nuove che si che si che si compongono quindi una cosa è scrivere un diario che può toccare che ne so la prima campagna d'Italia o anche le grandi campagne vittoriose dei primi anni dell'ottocento quelle che costruiscono l'impero altra cosa è in questa grande famiglia della memorialistica napoleonica andare a collocarsi in questo una grande originalità a mio giudizio andarsi a collocare verso la fine del periodo napoleonico lì in qualche modo toni trionfalistici sono difficili da poter assumere credo che sia stato già detto ma insomma è un diario del tramonto non è un diario dell'aurora la memorialistica napoleonica messa insieme ci aiuta a vedere quelle che sono le attese le speranze le esperienze i colori quali combattono le prime battaglie e perplessità interrogativi che appartengono a colori quali probabilmente almeno così mi è perso anche di leggere alcune delle pagine del diario vanno con grandi con grandi entusiasmi a questa avventura quasi che non avessero ancora compreso bene che cosa li aspetta e poi al contrario vedono che tutta la memoria ma anche la retorica che si era accumulata sull'invincibilità della grande armata si sciolgono nelle prove militari e in generale più in generale nel sentimento del tempo nelle pagine di questo diario il sentimento del tempo è un sentimento non è antinapoleonico tutt'altro ma è un sentimento che in qualche modo mescola più interrogativi che punti esclamativi fa capire che insomma queste nuove generazioni che si affacciano alle guerre napoleoniche cominciano a essere già quelle che poi dovranno raccontare le guerre napoleoniche più nella chiave di un penoso ricordo che si che sfiorisce che semmai di un'aurora che riesce questo è naturalmente il primo punto una memoria quindi che si distende su 15 anni e una memoria se posso aggiungere che ha anche una spazialità molto diversa io ho studiato un po' più da vicino per esempio quel corpus interessantissimo che sono le memorie della campagna d'Egitto le memorie della campagna d'Egitto appartengono alla ad una come dire ad uno stupore dell'Occidente e dell'Europa per un mondo totalmente diverso così non è o lo è in misura molto diversa per le memorie della campagna d'Italia non lo è certamente ma tuttavia non bisogna tratturarne alcuni elementi per le memorie di un uomo che combatte nel cuore dell'Europa tra il 1812 e il 1814 le memorie di una campagna d'Egitto sono memorie molto particolari ma sono molto particolari anche le novità che l'Italia che in qualche modo per certi aspetti nella memorialistica di questi uomini che vengono dalle campagne della Francia più profonda non è meno stravagante non è meno estranea di quello che poi potranno essere i deserti dell'Egitto islamico questa questa diciamo diversità non non appartiene dicevo prima strettamente a chi viaggia nel mondo tedesco o nel mondo diciamo dell'Europa orientale come accade per Baragai però fondamentalmente esse mantengono un elemento di curiosità e di stupore che le accomuna tutte quante quindi diversità di collocazioni spaziali diversità di collocazioni temporali ma alcune uniformità quella dello stupore la userei come una delle categorie più interessanti della memorialistica napoleonica perché si tratta di una esperienza che innova profondamente a livello di massa noi abbiamo anche in precedenza e anche attraverso le guerre ma su questo tornerò tra poco il viaggiare come una novità per mondi contadini mondi di borghesia cittadine ma non ancora molto come dire pronte allo scambio alla circolazione la guerra in qualche modo li precipita in condizioni completamente differenti e crea degli effetti sorpresa ma mai come e mai così estesamente come nel caso delle guerre napoleoniche le guerre napoleoniche in qualche modo o prima ancora che la guerra si fa un viaggio questo è detto molto bene anche nell'introduzione a questo diario e si ritrova in questo diario una volta mi ricordo che avevo anche immaginato di organizzare un convegno e chissà che da questa occasione non ne nasca anche la possibilità la lancio lì a questa accademia così generosa viaggio e guerra per quelle generazioni per quei giovani la guerra fu innanzitutto un viaggio fu una possibilità non che fosse l'unica ma fu la possibilità per uscire di casa e per andare a vedere mondi che non avrebbero mai immaginato di vedere ma che in qualche misura non immaginavano nemmeno che esistisse ora questo se lo applichiamo all'Egitto ovviamente è straordinariamente evidente ma se lo applichiamo anche a quelle città apparentemente simili a tante altre città europee ma per un giovane che veniva dalla Toscana totalmente nuova e totalmente diversa nelle loro architetture nell'urbanistica nel modo in cui in cui vivono gli abitanti queste città ma anche le stesse campagne perché in questo diario è vero che per certi aspetti si potrebbe dire beh una campagna toscana rassomiglia ad una campagna bavarese o ad una campagna diciamo quasi ormai dell'est dell'Europa ma se si legge il diario si capisce che prevalgono più gli elementi della sorpresa io l'ho chiamata a scopore della differenza piuttosto che invece il gusto del dire ah beh qui si fa come a casa mia e questo non lo so se sia come dire sottilmente e anche pericolosamente intrigante certo che la guerra può apparire una cosa drammatica lo dico anche naturalmente pensando alle dimensioni dei nostri giorni però al tempo stesso non possiamo dimenticare che essa è oggettivamente e poi anche in soggettiva di tirare una grande esperienza di contaminazione una grande esperienza di apprendimento della diversità orribile tragica fatta più di gesti di violenza che di gesti di partecipazione più di esclusioni che di inclusione però questi questi diciannovenni questi ventenni questi giovani che viaggiano l'Europa in qualche modo la viaggiano devo dire e devo aggiungere che quelle guerre quando vengono restituite alla dimensione del diario sono delle guerre molto meno totali di come si immagina molte volte si è scritto delle guerre napoleoniche come primo esempio delle guerre totali spiegandone alcune caratteristiche militari e in qualche modo facendone delle anticipatrici come tante altre cose del del novecento europeo io ho sempre esitato ho sempre pensato che Napoleone fosse e l'età napoleonica fossero un bel frutto del mondo ottocentesco e che non valeva la pena di farlo sconfinare negli orrori del novecento mi sembra di trovare confermate in questo diario attraverso l'esperienza di guerra questa esperienza di guerra ma poi lo racconta benissimo Stendhal con il suo Fabrizio del Dongo e il modo in cui vive addirittura la battaglia di Waterloo avevano pochi elementi pochi momenti la campagna di Russia è una leggera eccezione ma ma aiuta comunque a spiegarlo pochi momenti di concentrazione di violenza la battaglia è un episodio molto circoscritto della guerra in età napoleonica così come avveniva per il passato e come tutto sommato avviene ancora nell'ottocento ma non avviene quasi più né nella prima né nella seconda guerra mondiale quindi un diario di guerra chiamiamolo così in realtà assai poco spazio per raccontare la guerra perché la guerra occupa nel lungo periodo della propria permanenza sotto le armi un tempo abbastanza circoscritto e paradossalmente lo si ritrova anche qua più frastornato che preciso le descrizioni militari di questo diario veramente raccontano la guerra come si racconta un po' nell'avvio della Certosa di Parma cioè le guerre di allora erano delle guerre nelle quali chi le combatteva ci capiva molto poco non capiva non vedeva quasi nulla dell'insieme del combattimento e alla fine in realtà questi diari raccontano pochissimo del confronto militare ma moltissimo di ciò che viene prima e di ciò che viene dopo e in questo senso torno a ripetere hanno più il sapore dell'esperienza di viaggio che dell'esperienza di guerra detto questo e aggiungendo un ultimo elemento di collante di distinzione in questa categoria generale della memorialistica napoleonica chi scrive chi scrive è qualcuno che normalmente ha imparato a scrivere perché non è una cosa ovvia nell'Europa poco alfabetizzata della fine del sette degli inizi del novecento bisogna saper scrivere e qualche volta bisognerebbe anche saper leggere questo è un limite alla generalizzazione della esperienza cioè serve a noi per dire ma noi allora non sappiamo veramente che cosa è stata l'esperienza della guerra perché chi la racconta è un giovanotto di buona borghesia o di quasi aristocrazia come è l'eroe di questo nostro pomeriggio non generalizzerei così perché perché in qualche modo intanto noi abbiamo anche talvolta memorie trascritte memorie su memorie cioè che sono più il frutto di una seconda o terza generazione che ha imparato a scrivere ma che ha appreso dalla memoria orale di chi c'è veramente stato ma a parte questo ulteriore elemento di precisazione io penso che più in generale uso una parola che non è esattamente quella giusta possiamo accontentarci della rappresentatività di questi test cioè possiamo immaginare che questa guerra in qualche modo anche se viene raccontata da un borghese abbraccia anche il mondo come dire degli esclusi dei senza voce perché non le hanno scritte che forse non le saprebbero leggere e questo per due motivi e poi non rubo più nulla alla vostra pazienza la prima è che in qualche modo queste scritture non sono molto autoreferenziali si fanno spesso carico raccontano di sé naturalmente ma si fanno molto spesso carico anche in queste pagine si può capire di un come dire di una collettività in movimento perché anche questa è una scoperta per chi ha sempre vissuto in mondi isolati o per come dire piccoli trovarsi in comunità molto più allargata cioè nel pieno di un esercito numeroso e variato come l'esercito Napoleone sia pure in posizioni migliori perché sono ufficiali sotto ufficiali guardie che quindi hanno una condizione privilegiata ma tutto sommato in qualche modo sentono vivono l'esperienza della coralità e sentono la necessità di dare comunque nella loro scrittura volto e voce alla coralità secondo punto questi diari rimangono lungo inediti come questo vengono riscoperti più tardi eccetera ma la memorialistica napoleonica nelle forme diciamo degli autori più noti e delle letture più consuete diventa come l'immagerie di Epinal la grande via di comunicazione della leggenda napoleonica negli anni venti e negli anni trenta e come tale come proprio le immagini di Epinal ci mostrano sono il pretesto di una diffusione orale della leggenda napoleonica nel senso che se c'è uno che uno sa scrivere ma c'è anche uno che sa leggere e quello che legge anche se non le ha scritte lui ha ascoltatori tutto intorno ci sono tante tante immagini ricordo alcune che poi diventano molto diffuse nel mondo diciamo dell'Europa della prima metà dell'ottocento che mostrano una attenzione come dire alla alla lettura che è fatta da qualcuno con un mondo che normalmente spesso è anche un mondo contadino tutto il torno che ascolta ricordo su questo per esempio delle pagine molto belle di Lamartine quando proprio nella Graziella di Procida ricorda come avviene da parte sua la lettura di alcune di questi passi napoleonici che secondo lui avrebbero dovuto infiammare gli animi dei non in questo caso contadini ma dei non meno poveri pescatori dell'isola di Procida e si accorge che non funzionano ma funziona molto meglio invece che dell'epopea napoleonica la lettura di Paul et Virginie altro grande classico della lettura sette-ottocentesca con la storia di un amore straziante in quel caso siamo un po' più avanti nell'ottocento rispetto alla epica militare il cuore degli umidi è più toccato da una tragedia d'amore che da una tragedia di guerra quindi in qualche modo la come dire il sequestro della scrittura diventa un dissequestro dell'oralità nel momento della lettura e questo aggiunge convinzione a quello che penso e cioè che se continuiamo a pubblicare questi diari se ne troviamo degli altri non dobbiamo scoraggiarci all'idea che stiamo parlando sempre degli epifiu di una piccola borghesia come dire circoscritta ma al contrario stiamo parlando di un momento nel quale la circolazione dei valori borghesi diventa qualcosa di molto più fenomenicamente diffuso e quindi in qualche modo ci aiuta anche a capire certi aspetti per così dire delle culture popolari e democratiche del pieno ottocento ecco io mi scuso delle condizioni un po' da sembro quasi un corrispondente da Kharkiv ma spero che la mia le mie parole siano state in questo modo ascoltate e utili anche ad una discussione per la quale mi rammarico di non essere stato a Siena a bere del vino e a mangiare come avevo promesso e mi era stato promesso ad Aurora ma solamente rimandato alla prossima grazie ci tengo naturalmente a ringraziare anche Luigi Mascilli Migliorini per questo inquadramento del diario del tramonto mi sembra una definizione molto molto bella e più diario di viaggio da certi punti di vista che diario delle esperienze di guerra che sono in qualche modo inattingibili però ecco Laura Vigni deve una risposta deve una risposta a Giada sì io naturalmente la problematica è complessissima e ti do solo qualche accenno mio personale io credo che le guerre siano molto cambiate nelle guerre napoleoniche e soprattutto nell'esperienza di Giuseppe lui era stato mandato non è che sviluppa un senso di impegno personale perché convinto di sostenere l'impero napoleonico e si comincia a vedere proprio in quel discorso che qualcuno di voi ha letto i ragazzi che facevano le fischiate sta nascendo nella Germania proprio allora nella Germania non esisteva in Prustia quello spirito nazionalista che porterà poi a partecipare alle guerre con più convinzione di combattere per il proprio paese perché tutto sommato Giuseppe era italiano cioè che aveva a che fare con l'impero napoleonico mentre invece proprio allora secondo me matura il romanticismo questo nuovo il il confronto oggi con la guerra in Ucraina non cioè l'analisi è difficilissima perché lì non si capisce in effetti quanto è resistenza ad un'occupazione o quanto quali elementi ci sono di persone che sono indotte a combattere perché in qualche modo costrette ecco quindi io mi fermerei qui perché non mi voglio azzardare in altre non so se ci sono domande per l'Aufrice per Laura io ecco se ci sono altre domande domande ce ne sarebbero a che fare una nota però una cosa minima la voglio fare bisogna stare attenti perché oggi oggi tutti sono diventati geo strategie a usare la parola nazionalismo in termini eccessivamente dilatati perché c'è il senso della nazione che poi degenera in nazionalismo che poi in altro ancora insomma non è una categoria da applicare in maniera semplice e facile in termini come fanno anche certi giornalisti di cattiva penna io approfitto per ringraziare ancora tutti quelli che hanno partecipato a questo incontro e l'invito alla presentazione che si svolgerà nella nella sala di Palazzo Patrizzi la sala degli intronati il prossimo martedì 24 maggio data patiria 24 maggio non è un anniversario in questo senso e sarà presentato il libro di Giorgio Cella storia e geopolitica della crisi di Ucraina dalla Russia di Kiev a oggi è un libro straordinario perché oltretutto Cella l'aveva concluso prima che scoppiasse questa tragedia dunque non è inquinato da ottiche di parte o altro è probabilmente il libro più importante anzi senz'altro per far capire se non altro la storia che il retroterra storico di questa area così complessa è difficile assimilare ad altre questo incrocio tra Oriente e Occidente tra Russia e Mediterraneo è veramente una storia di straordinaria complessità un libro molto ricco Giorgio Cella è docente di storia dell'Europa all'Università Cattolica di Milano il libro è edito da Carocci e dialogheranno con lui soprattutto Gabriele Maccianti che ha una sospetta eccessiva passione per le guerre e io cercherò di dire meno cose di stasera perché di queste cose non mi sono mai occupato ma credo bene o male con l'angoscia con la curiosità ahimè ritornano alla ribalta ed è bene indagare nel passato forse per capire qualche cosa anche del presente non per attualizzare o fare comparagioni perché la storia serve a capire la distanza dal presente mentre invece viene purtroppo malamente usata per sovrapporla e giustificare il presente ecco la storia che fa Putin è una vergogna ideologica gettata alla propaganda come giustificazione di un atto che non ha niente a che vedere con quella lettura della storia dell'Ucraina dunque leggiamo dal passato con gli occhi del passato e il presente gli occhi del presente mi rizzo è andato via però quando facevo qualche lezione da supplente al liceo io davo sempre un tema a una frase di Hogan Oizinka del grande storico olandese che diceva la storia è il passato compreso con l'ottica e i mezzi e i testi del passato io sono rimasto d'accordo a questa vicenda perché altrimenti il discorso diventa facilmente comparativo e propagandistico ma dirà scusate la sparata che non c'entra niente perché stasera invece abbiamo letto una fonte importantissima che ci dà la misura della soggettività con cui veniva percepito gli avvenimenti la storia poi si raggiunge mettendo insieme molte soggettività e molte fonti perché se prendessimo le soggettività alla lettera non ci apriremo nulla ma questo ce l'ha fatto aprire stupendamente Tartoi in guerra e pace ci sono pagine rassi da questo punto di vista o anche standard insomma chi la faceva soprattutto allora che non c'era ora magari si capisce di più perché ora ci sono i droni ora la guerra è un game tragico per cui la civiltà digitale ha cambiato radicalmente tutto per cui i parallelismi sarebbero assurdi allora era veramente pensate a un grande film come Senso di Visconti bellissimo per capire che cosa non si capiva a Custoza ad esempio erano tutti a Custoza tanto tempo però arrivavano Carrianchi arrivavano era incomprensibile capire come andava a finire capire il filo pur essendoci era un avvenimento che in continua misteriosa trasformazione non è caso Franco Gardini quando scriveva cose importanti e non si dava la pubblicistica volgare come si è dato ora ha scritto un libro bellissimo che è intitolato quella festa guerra frutele quella festosa guerra frutele che era così questi partivano anche con l'idea di un'avventura poi si trovavano di fronte a una conclusione tragica vi ringrazio e vi invito al prossimo vi ringrazio anche io e ricordo anche io un film allora perché parlando di libertinismo e parlando di qualcosa che comunque è un tramonto a me è venuto subito in mente il mondo nuovo di Ettore Scola con questo straordinario Marcello Mastroianni queste scene iniziali restivi della Breton quindi niente solo per salutarvi e ringraziarvi della vostra presenza e ringraziare ancora Francesco Mineccia e Luigi Mascilli Migliorini per il loro intervento e per la loro presenza grazie a tutti grazie